In questo video cercheremo di raccontarvi come è nata la nostra ricerca e di farvi comprendere il motivo per cui stiamo dando una certa diffusione a questa ricerca. Tutto parte nel tentativo di spiegare i misteriosi fenomeni che nel 2003 accaddero a Canneto di Caronia, un paesino tra Palermo e Messina. In questo paese, inspiegabilmente, alcune case in questo paesello cominciarono a prendere fuoco senza una apparente spiegazione. Intervennero i pompieri e gli incendi continuarono ad avvenire in modo spontaneo. Si incendiavano soprattutto gli impianti elettrici e tutti gli oggetti che avevano dei fili metallici. Quindi vennero staccate tutte le connessioni elettriche del paese e furono invocati i tecnici dell'ARPA che rilevarono che nei dintorni di questo paese molte piante avevano subito delle bruciature molto strane. E' successo tutta una serie di eventi che non si riuscivano a spiegare. Intervennero le forze pubbliche. È diventato un caso nazionale. Intervennero anche le forze americane. Diciamo, misteriosamente, degli elicotteri fecero dell'esplorazione in zona. Ma non si riuscì a trovare una spiegazione. Poi avvennero altri fenomeni connessi, come una moria in massa di meduse in quella zona di mare, più o meno da queste parti. Ci fu uno spiaggiamento in massa di meduse e altri fenomeni. Diciamo che alla fine di questo video apparirà un'icona cliccando la quale potrete visualizzare un filmato che dà un ampio rapporto di tutti gli eventi che successero in quel periodo. Ecco, diciamo che si aprirono due ipotesi. O l'ipotesi aliena o l'ipotesi di armi non conosciute, diciamo in possesso degli americani, che emanavano delle forti onde elettromagnetici. Si parla della potenza di 3 gigawatt. Pensate che è la potenza che ha una centrale nucleare e tutto proveniva da questa zona del Tirreno. Diciamo che dopo un certo periodo che non si riuscivano a trovare delle spiegazioni, diciamo che il tutto fu insabbiato, perché furono minacciati tutti quelli che davano pubblicità a questi eventi, alla fine è stato sospettato il Presidente del Comitato Vittime, un certo Nino Pizzino, che attualmente risulta indagato per questa cosa. Ecco, noi diciamo che questa spiegazione ci sembra assolutamente ridicola. e se vedete il video che vi abbiamo, diciamo, agganciato in un'icona alla fine di questa presentazione, vi renderete conto che non è questa una spiegazione. Ecco, diciamo che da questa è partita una ricerca che è durata molto tempo e ha portato a dei risultati veramente incredibili che ci hanno portato a, diciamo, a smuovere un po' le acque. E siamo arrivati alle conclusioni che questo, diciamo, segnale radio fosse una sorta di radiofaro che guidava un'invasione aliena. Ecco, adesso sicuramente si apriranno una serie di ilarità o di, diciamo, di commenti, diciamo, per ridere. E sì, diciamo, si tratterebbe di una sorta di radiofaro che dovrebbe guidare dei astroliavi alieni verso una zona dove avrebbero un deposito di, diciamo, armi che sarebbe una zona che è situata più o meno nell'Iraq. Ecco, questa, diciamo, è una lunga ricerca quindi non è che in pochi secondi possiamo comunicarvi quindi abbiamo avviato una serie di video la pubblicazione una serie di video che cercano passo dopo passo di comunicare come siamo arrivati a questa conclusione. E se può servire a, diciamo, a farvi capire che è una cosa seria e non è, diciamo, un gioco da bambini vi vorremmo invitare a prendere visione che questo evento in realtà è già successo. È documentato documentato da due storici assolutamente eminenti e parliamo nel 30 dopo Cristo durante l'assedio di Gerusalemme. Quindi l'imperatore Tito sedò una rivolta e, diciamo, distrusse praticamente Gerusalemme, Israele e gli ebrei da allora sono sparsi in giro per il mondo. Ecco, questo evento essendo molto famoso è stato documentato da vari storici in particolare uno storico che l'ha documentato diciamo in modo approfondito è Giuseppe Flavio che ha scritto un tomo che si chiama Guerre Giudaiche che noi vi invitiamo ad andare a leggere non tutto chiaramente ma il passo che vi segnaliamo e noi nel libro sesto al passo 298 Giuseppe Flavio dice che lui è stato testimone insieme a molti altri di una visione che lui stesso se gliela raccontassero non ci avrebbe mai creduto ma non poteva fare a meno di citarla in quanto è stata sostenuta da una serie di testimoni oculari e cosa ha visto? Leggiamo testualmente prima che il sole tramontasse si videro in cielo su tutta la regione carri da guerra e schiera di armati che sbuccavano dalle nuvoli e circondavano le città se questo non bastasse abbiamo a conferma lo storico Tacito che nel suo volume storie libro quinto capitolo 13 parlando proprio esattamente di questo periodo di questo episodio conferma la testimonianza raccontando che si videro in cielo scontri di eserciti e sfolgorio di armi e per improvviso ardere di nuvoli quindi parlano chiaramente di eserciti di armi di carri da guerra che scorazzavano nel cielo questi sono due storici assolutamente accettati dalla storia ecco quindi non sono né libri di religione né libri diciamo di fantasy voi vi chiederete ma noi com'è che non sappiamo queste cose e nessuno ci ha insegnato a scuola queste cose ecco questa non è una risposta che tocca a noi darvi noi vi possiamo solo dire di andare a leggere questi due passi Giuseppe Flavio Guerre Giudaiche Libro VI 298 e Tacito Historie Libro V capitolo 13 e vedrete che si parla di un'invasione aliena su Gerusalemme che si trova qui quindi a breve distanza dal luogo che diciamo punterebbero questi mezzi spaziali che sarebbero guidati da questo radiofaro che si trova qua quindi avrebbero fatto delle prove generali in previsione di un'ennesima invasione che a quanto pare avviene periodicamente quindi vi invitiamo a prendere visione di tutte la catena di video che diciamo sono raccolti in una playlist che si chiama alla fine del mondo spiegata scientificamente quindi se cliccate sull'icona quadrata che vi appare con questo titolo vedrete tutti i video che spiegano come siamo arrivati a questa conclusione i video ancora non sono tutti pubblicati sarà una pubblicazione che in continua evoluzione che potrete seguire se invece volete vedere il servizio che ha fatto una rete diciamo televisiva su questi fenomeni di canneto per rendervi conto che sono delle cose abbastanza inquietanti potrete cliccare sulla seconda icona che diciamo vi aggancerà a questo filmato specifico